Il teatro è un elemento formativo interdisciplinare e multidisciplinare di grande valenza didattica e veicolo di crescita culturale che aiuta i ragazzi nel percorso di conoscenza che li porterà a diventare cittadini europei attivi e consapevoli. Queste le parole dell'assessore alla cultura in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, Cristian Tommasini, pronunciate alla presentazione della 27esima edizione dell'iniziativa Viva il Teatro. Perché è importante promuovere il teatro nella scuola e fuori dalla scuola? Perché attraverso l'esperienza teatrale i nostri ragazzi si appassionano di un percorso culturale e appassionandosi, vivendo il teatro come il cinema, la musica, effettivamente costruiscono anche la capacità di leggere la società e quindi di essere cittadini più attivi e più consapevoli. Ricordiamo che solo nella nostra provincia investiamo le risorse per il teatro nella scuola e questo sta portando negli anni, e questo è veramente bello, tanti ragazzi e ragazze che poi partecipano e frequentano il teatro, si trovano, si incontrano e la società è certamente più viva. E a sottolineare l'importanza dell'iniziativa Viva al Teatro per portare i ragazzi della scuola davanti al pacco scenico è stata anche la stessa sovrintendente scolastica Nicoletta Minei. E il direttore del teatro stabile, Walter Zambaldi, ha parlato di quello che sarà il leitmotiv di questa edizione dell'iniziativa. Il pensiero all'emozione, quindi l'approcciarsi a quello che può essere un'emozione viva, l'amore, la morte, tutto con la delicatezza e la poetica del teatro. E portare i ragazzi ad incontrarsi di fronte ad un palco scenico è quanto mai importante in un mondo dei giovani sempre meno reale e sempre più virtuale? È fondamentale andare a teatro proprio perché viviamo in un mondo virtuale, il teatro è qui e ora e vede assemblarsi una serie di persone che approfondiscono una questione e si vedono riflessi in quello che è un palco scenico.